Buongiorno, good morning Milano, buongiorno a tutti, oggi è il 6 di giugno del 2024, su qua niente da ridire e quindi è la prima notizia della giornata, così se avete aperto gli occhi da poco almeno sapete quando siamo, dove, non lo so, lì dovete capire voi se vi siete risvegliati nel letto in cui siete andati a letto ieri sera o se avete vagato nella notte, spero avete abbiato e vagato con la mente e non con il fisico. Comunque, buongiorno ancora a tutti, buongiorno ancora a tutti, ben risvegliati, ben ritrovati qui appunto in diretta su Crystal Radio dove tutto funziona e tutto va bene e tutto scorre fino alle 9 in modo che possiate stare con noi con un po' di notizie, un po' di ospiti, un po' di musica e anche interagire insieme a noi al 3317853555. numero di whatsapp che è pronto, qui davanti è aperto a me sul mio pc dello studio, pronto ad accogliere i vostri consigli, i vostri suggerimenti, le vostre storie, cosa avete fatto oggi, cosa farete oggi, cosa avete fatto ieri, quali programmi avete magari per questa settimana o magari qualcuno di voi sta già incominciando anche a vedere, visto che la scuola sta per finire, anche dove andare in vacanza, ad esempio, oppure dove parcheggiare i figli mentre non ci sarà la scuola e quindi dovranno decidere, dovete decidere cosa fare dei vostri figli, dove li parcheggiamo? All'oratore estivo? Al CRE, come si chiama? Al CRES? Oppure c'è qualche scuola, la scuola di clauneria ad esempio, la scuola di clauneria di Milano fa delle cose interessanti per tutti i bambini, ma non siamo solo qui a parlare di bambini, siamo qui a parlare di musica, come quella che apre con tanta energia la giornata di oggi, lui è Ben Harper con Faded. Ben Harper, Faded, questa è l'energia che vi serve per iniziare la giornata, oggi appunto giovedì 6 giugno, 6 giugno che è anche la ricorrenza di un fatto molto, insomma ha cambiato un po' anche la storia degli Stati Uniti d'America, sto parlando dell'assassinio di Robert Kennedy che nel 1968 viene ucciso a Los Angeles mentre esce da un comizio percorre le cucine di questo albergo, verrà avvicinato da una persona che gli sparerà e raggiungerà, pensate, dopo soli 5 anni, lo stesso identico nefasto destino del fratello John Kennedy, si è ucciso invece nel 1963 a Dallas, insomma la tragedia delle famiglie Kennedy è famosa in tutto il mondo ed ha segnato anche veramente la storia moderna di quello che sappiamo appunto essere la storia attuale. Oltre però ad essere il giorno in cui appunto si ricorda la scomparsa di Bob Kennedy, per gli Stati Uniti è anche il giorno, pensate, in cui nasce l'NBA, nel 1946 il 6 giugno appunto nasce l'NBA, all'epoca si chiamava BA, non NBA, si chiamava BA, che era la Basketball Association of America, poi dopo nel 49 si fonde con la National Basketball League e diventa a quel punto poi l'NBA. Però la prima, diciamo, vera e propria associazione di basket americana nasce proprio nel 6 giugno del 1949, ma il 6 giugno è anche una data importante perché viene inventato qualcosa con cui tutti abbiamo avuto a che fare in questi anni. L'avete riconosciuta? E' la musichetta del Tetris Ebbene sì, proprio il 6 giugno è stato inventato il Tetris Precisamente il 6 giugno del 1984 40 anni di Tetris 40 anni di questa musica E di una parola che è entrata anche a far parte poi dell'uso comune, perché quanti di voi ogni volta che devono caricare la macchina per andare in vacanza dicono, eh bisogna fare un Tetris, no? Pensate che non esisteva in realtà questa parola prima, perché l'ha inventato appunto il suo inventore, l'inventore del gioco, che è Alexei Pazitov, che ha usato una parola che esiste, o meglio, ha creato i tetramini, che sono i pezzettini che servono per giocare a Tetris. Perché, non so se vi siete mai accorti, ma i tetramini, cioè i pezzettini del Tetris, sono composti sempre da quattro pezzi, sono quattro quadratini, che creano le figure appunto tipiche del Tetris La T, la L, la S, il serpentino come chiamiamolo, quello dritto lungo, quello quadrato, insomma, non è così scontato che... Io, ad esempio, non ho capito che era Tetris perché sono tetramini, cioè quattro, perché appunto deriva poi dal prefisso greco tetra, che significa appunto quattro, e quindi da qui è arrivato il nome Tetris. Parola che davvero, Mike, ogni volta, no? Quando siamo in tanti, bisogna fare un Tetris per staccinto tutti, cose del genere, cioè, bisogna... È diventato una parola di uso comune. Pensate, 40 anni, 40 anni che ci portiamo il Tetris a dietro e ci giochiamo con grande, grande foga. Io in casa ho una mezza campionessa di Tetris, che nei tornei online, devo dire, che va anche molto, molto bene, quindi complimenti ai campioni che ho in casa e, chissà, anche voi siete bravi. Altro Tetris che bisogna fare è quello con le nostre auto quando andiamo in giro invece in città e quindi per questo sentiamo di che Tetris andremo a giocare quest'oggi con le nostre auto insieme a Luce Verde. Comacose, malavita, 7 e 24 minuti, Crystal Radio, Good Morning Milano, queste le coordinate, 3317853555, il modo che avete per poter contattarci e parlare insieme a noi e condividere la vostra giornata. Giornate di concerti a Milano, lo sappiamo, c'è stato il concerto di Lana del Rey un paio di giorni fa e incominciano a uscire un po' i report di quello che è successo su Corriere della Sera, scusate, Corriere della Sera Milano, leggiamo, Lana del Rey resta in metropolitana Milano dopo il concerto, una vergogna, ATM dice tutto regolare. Bene, allora andiamo a leggere, Lampugnano dopo le 23.30 di martedì la folla ha riempito il mezzanino e l'azienda dei trasporti ha limitato l'accesso alle banchine per motivi di sicurezza. Treni ogni 6 minuti fino all'una e mezza, grazie per aver allungato fino all'una e mezza, 6 minuti però ti dà modo di riempire lì niente male. Sono le 23.38 di martedì 4 giugno quando la stazione metropolitana di Lampugnano a Milano si anima di persone. Sono centinaia, poche ore prima hanno assistito all'esibizione della cantante Lana del Rey, l'ippodomo appunto Lamaura per gli High Days a Lamaura ricordiamo. Per l'apprentamento musicale ATM aveva potenziato il trasporto e le stazioni Uruguay e San Siro, le più vicine, sono state chiuse per motivi di sicurezza. Io questa cosa, vi giuro, non la concepisco, non l'accetto, ma se facciamo le stazioni da metropolitana, facciamoli in modo che possano rimanere aperte anche quando ci sono quegli eventi. Si sa, soprattutto qua e San Siro, si sa che c'è uno stadio lì di fianco. Quindi perché dobbiamo chiuderla quando c'è? Non ha senso, non ha senso. Nessuno. Quando Uruguay non è pronta, bene, forse allora Lamaura non bisogna fare i concerti, punto. Questo è quello che c'è da dire. Non si possono più fare i concerti in quel posto lì e smettiamola con la minaccia, allora vanno chissà dove a fare i concerti. Che vadano, che vadano. Tanto poi comunque tornano, perché poi sembra Milano chiunque vuole venire a cantare a Milano. Allora, Milano mi piace che è un brand attrattivo quando ci fa comodo, no? E allora facciamo la regola anche per difendere il nome Milano nei brand, che è roba che il prossimo anno dobbiamo fare la richiesta, se possiamo ancora chiamarci Good Mall in Milano quasi, no? La grappa Milano non è detto che possa esistere, perché Milano è un brand a difendere, così dicono quelli là. Poi però, quando invece diciamo, beh ragazzi, però magari fai tutti questi concerti. Eh no, ma scusa, se non li facciamo, però dopo la gente, i concertanti vanno a fare i concerti da un'altra parte. Allora, Milano è attrattiva o non è attrattiva? È attrattiva perché gli facciamo fare quello che vogliamo? Allora lì c'è ragione la CGL sul discorso anche dei palazzi e delle costruzioni che dice che è tutto un Luna Park dove rendiamo possibile tutto a tutti. Eh, allora, cerchiamo di capire che cosa vogliamo fare in questa città. È sempre questo il tema. Cosa vogliamo fare? Tornando a Bomba, ci sono delle immagini, dei video eloquenti, che sono delle scene assurde di fiumane di persone che passano attraverso le strade e bloccano tutto. A un certo punto, oltretutto, c'è un passaggio pedonale che è chiuso per lavori. Ovviamente la fiumana cosa ha fatto? Ha passato di fianco ai lavori su un prato, quindi immagino come adesso sia quel giardinetto ormai completamente quasi distrutto, ma tutto questo ATM giustamente dice no, tutto regolare. Ma ovvio che tutto regolare per loro, essendo che loro hanno fatto anzi, grazie a ATM che ha messo anche i mezzi fino all'una e mezza di notte, con una frequenza di sei minuti, che va benissimo. Il problema è che la folla in attesa, si spiega per questioni di ordine pubblico sicurezza, devono rimanere fuori dalle stazioni, quindi contingentate l'ingresso alle stazioni. Le persone hanno aspettato sul mezzanino vicino ai tonalini della metro perché farli scendere in banchina sarebbe stato troppo pericoloso. Il flusso quindi è stato contingentato. Via via che i treni arrivavano, le persone scendevano quindi in banchina. Ma questo è il quadro. Facciamo delle fermate della metro che poi non sono adeguate a quello che succede in quella zona lì. Attenzione poi, non mi dite, eh mio, ma una volta all'anno. No, prima di tutto è due mesi all'anno ormai, perché se è giugno-luglio è così. Quindi, ok, ripensiamoci magari che non sarebbe male come dire. Rino Gaetano con Gianna. Ci dà l'energia giusta per iniziare la seconda mezz'ora di trasmissione insieme. 331-7853-555 il nostro numero di WhatsApp. È pronto qui a ricevere i vostri consigli per la giornata o quello che avete fatto ieri. Se volete vi racconto io cosa ho fatto ieri. Una roba assurda, posso dirvelo. Allora, è il periodo delle feste di fine anno nelle scuole, no? Lo sapete. Chi di voi ha figli lo può sapere. Io non ho figli, quindi lo ignoravo fino a ieri sera. Quando il mio carissimo amico, Lele, mi scrive qualche giorno fa dicendo, sentì, ho bisogno di un piacere. Non è che potresti venire e dammi una mano, perché c'è la festa della scuola. Poi in realtà io, quando uno mi scrive i messaggi, leggo solo qualche parola spot. Quindi forse se avessi letto meglio tutto effettivamente mi sarei preparato meglio. Ma comunque, vabbè, sì, fa niente, dai, vengo, tanto sarà la festa di tua figlia. Giorgia è una di quelle, è stata la prima figlia del gruppo di amici, quindi insomma, si fa tutto per Giorgia. La viziata del gruppo, ovviamente, la viziamo tutti, quindi ci mancherebbe. Cioè, andiamo, ok, ci vengo. Ho scoperto che non era la festa di Giorgia, prima di tutto. Nel senso che non era la festa di Giorgia, fa la seconda media. Invece questa era la festa dei terzini, cioè, non quelli che stanno in difesa e difendono la porta tipo Paolo Maldini, perché per me è un terzino e Paolo Maldini, no, quelli che fanno la terza media ed escono e se ne vanno fuori. Cioè, i prossimi dirigenti del nostro mondo, prossima classe dirigente, diciamo, quelli che il prossimo anno iniziano le scuole superiori, insomma, quelle robe lì. Beh, è stato interessante, devo dire. È stato veramente uno studio sociologico. Allora, cosa succede? I genitori di terza in questa scuola, perché è una scuola bella di Milano, la Rinascita, è una scuola veramente bellissima, c'è un giardino con dentro campi da basket, campi da pallavolo, c'è un auditorio bellissimo, una palestra pazzesca, scuola, laboratori, c'è una scuola fantastica, fa milioni di progetti interessantissimi. Comunque, cosa succede? Che la festa viene strutturata così, cioè i genitori di terza portano lì i ragazzini, quindi, e stanno fuori. Non possono entrare, perché sennò rompono le scatole i bambini, i bambini non si divertono, giustamente, i ragazzini e i ragazzini non si divertono. Quindi, chi sta dentro però a fare il servizio, anche a controllare che non vadano a infrattarsi di qua e di là? I genitori di quelli di prima e di seconda. Quest'anno sembrava, poi in realtà c'erano tantissimi genitori, quindi infatti io ho praticamente fatto niente, allora lei mi ha chiesto un aiuto, dicono, senti, puoi venire a darmi una mano, perché magari serve, ovviamente ha dato una mano al DJ, ho aiutato a montare le luci, quella roba che è il mio poi. Quindi ci stava, ma è veramente interessante, cioè dovete vederli. Allora, prima di tutto, cioè tutti questi ragazzini maleducati, non è vero, per niente, super educati, super educati, nonostante avessero adrenalina a due milioni, cioè proprio pam 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 pam, una roba pazzesca, tutti vestiti eleganti, stilosissimi alcuni, tra parentesi, cioè io devo dire veramente complimenti, originali, non tutti omologati, una cosa, io me li immaginavo tutti vestiti uguali, tutti vestiti uguali, tutte con gli stessi capelli, le ragazze, non è vero, molto eterogenea la cosa, oh sarà quella scuola, sarà che sono fortunato io a vedere questa gente, però bisogna anche avere gli occhi per vedere le cose, davvero bellissimo, interessante che vedere quando poi partono i balli, ovviamente i maschi ballano con i maschi, le femmine ballano con le femmine, con l'età ancora, forse un po' così, anche se abbiamo notato che su un paio di lenti erano già iniziati un paio di balli con forse la coppia della scuola, non so, la reginetta è il king, però interessante devo dire, è stato uno studio antropologico mi verrebbe da dire a vedere questi piccoli che insomma diventano pian pianino sempre più grandi, trattati da bambini ancora per fortuna, anche se loro ovviamente vogliono essere trattati da grandi, ci sta, quell'età è normale, con una festa pulita, bella, dove si sono divertiti, dove a un certo punto pensavo fossero tutti della stessa classe, invece mi hanno detto no no, sono cinque classi diverse, sembravano veramente che fossero tutti la stessa classe, cioè molto molto uniti, insomma questo è stato molto molto interessante. Cara la mità, Gali, Gali è la canzone di Anna Castiglia, e sì, non è Gali questo, ma è Anna Castiglia che canta Gali, la sua canzone, la sua hit, molto molto attuale in questo momento, il racconto appunto di chi magari mi lamento col telefono nella mano e faccio poco invece nella vita, cosa che invece ieri non è successa a Milano, stiamo parlando appunto di che cosa? Della bandiera, della bandiera palestinese che è comparsa ieri sulle guglie del Duomo, leggo da Corriere della Sera ma anche Repubblica ne parla, poi infatti leggiamo un po' di qui e un po' di là, Milano, sulle guglie del Duomo, una bandiera palestinese rivendica il candidato AVS a Puzzo, aveva già camminato su un cornicione a Montecitorio, è stata srotolata sulla facciata tra le guglie, contesto la guerra e non la chiesa, la scorsa settimana un'altra bandiera era stata presa da Carlo Monguzzi in galleria, quindi una grande bandiera della Palestina è stata srotolata appunto ieri pomeriggio sulla facciata del Duomo, il gesto è stato fatto da Stefano Apuzzo, candidato consigliere alle europee con alleanza verde e sinistra, lo ha confermato appunto lui stesso spiegando che insieme a lui c'era anche l'esponente dei verdi, Francesco Fortinguera, i due sono saliti pagando il biglietto dell'entrata che permette appunto di arrivare alla terrazza del Duomo, avevo questa enorme bandiera nello zaino, ah no, scusate, no, vedete, avevo questa enorme bandiera della Palestina arrotolata nei pantaloni, arrivati ad un certo punto quasi in cima, avevo già notato una piccola finestrella aperta che dà su un davanzale centrale della facciata, quindi siamo usciti su questa specie di ballatoio e ho avuto il tempo di appendere la bandiera, ovviamente poi subito tolta dalla security del Duomo, ma insomma un gesto importante che segue quello appunto fatto qualche giorno fa da Carlo Monguzzi che aveva invece esposto la bandiera palestinese sulla galleria, dagli uffici molto probabilmente consigliari, perché c'è un palazzo che dà su Piazza San Fedele, diciamo più o meno la via lì, penso sia via Marino, credo così si chiami, e ha delle finestre che danno invece sulla galleria, lui appunto è uscito su quel balcone e aveva messo la bandiera sull'ottagono diciamo della galleria, aveva messo la bandiera palestinese, questi sono tutti i gesti che in città incominciano a esserci e a farsi sentire, la situazione è sempre più drammatica nella striscia di Gaza e quindi sempre più drammatica per il popolo palestinese e molti incominciano a far sentire la propria voce e non appunto come diceva Anna Castiglia nella sua canzone mi lamento col telefono in mano sperando chissà cosa succede e invece giustamente qualcuno giustamente viene da dire poi ovviamente adesso il candidato a Puzzo si prenderà le sue responsabilità mi immagino qualche denuncia che partirà sicuramente però insomma io dico sempre questo se qualcuno è disposto a prendersi delle denunce a prendersi quello che succede poi le conseguenze del caso noi parlavamo tempo fa quando parlavamo di Fridays for Future quando parlavamo di ultima generazione di ragazzi di ultima generazione che si incollavano in giro per la città o hanno usato la vernice in alcune situazioni insomma se qualcuno è disposto a correre questo pericolo a prendersi questa responsabilità evidentemente il bisogno è davvero grave il bisogno di espressione di esprimersi in quella direzione cercando di portare avanti poi comunque queste qui sono azioni dove si porta avanti un sentore di pace dove si porta avanti il seme appunto del no alla guerra io credo che sia interessante anzi forse mi viene da dire dovremmo anche forse ringraziare che certa gente ci svegli e ci sveglia dal torpore che tutti i giorni abbiamo dentro di noi Steppenwolf born to be wild insomma nascere per essere wild selvaggio è quello che magari alcuni pensano quando appunto ci sono delle manifestazioni come quella di ieri cioè un qualcuno che rivoluziona e fa qualcosa fuori dagli schemi e quindi anche poi diciamo giustamente tra molte virgolette le regole lo dovranno quindi poi magari appunto gli arriverà una denuncia una multa di questa bandiera esposta sulla facciata del Duomo cosa che è sacrosanta secondo me cioè è un momento anzi di grande pacifismo e dimostrazione di questo ma che ha infranto delle regole quindi ci può stare un po' meno ci sta quando le multe ti arrivano se fai qualcosa di buono per la città e lì insomma girano un po' quelli che venivano definiti dal buon Camilleri Cabazzisi perché insomma mille leggo da Repubblica Milano mille euro di multa ai cittadini che riqualificano il parterre in via Aselli liberandolo dalla sosta selvaggia i cittadini avevano pulito lo spazio e messo a rastrellire i mobili la polizia locale ha tolto tutto e spedito la multa raccolta fondi per pagare la sanzione e fare ricorso ce lo racconta anche Corriere della Sera Milano i comitati riqualificano un tratto di marciapiede in via Aselli sanzionati dai vigili con una multa da mille euro è quello che è successo appunto in questi giorni stiamo parlando via Aselli e una traversa di via Le Argonne per interneci ok quella zona lì un po' come via Pacini quelle vie dove c'è quel grande Pacini c'è la centrale c'è un grande spazio di traffico centrale dove si mettono le macchine adesso invece hanno fatto una riqualificazione comune con dei tavoli e tutto via Aselli ha un grandissimo marciapiede diciamo veramente immenso con un grande spazio tra gli alberi dove vengono mosteggiate macchine veramente selvaggiamente tutti i giorni ed è normale questa cosa viene fatta cosa succede che appunto loro hanno chiesto tra parentesi permessi sto parlando di chi Milano sai che puoi sai che puoi è l'associazione che fa tante iniziative quella ad esempio che ha fatto che ha cercato in giro per i parcheggi via Libera che hanno cercato mappato in giro per la città tutte le auto sono stervetate ecco loro hanno fatto un'iniziativa hanno chiesto che permessi per farla quindi per qualche giorno loro avevano la possibilità di utilizzare quindi un suolo pubblico per fare hanno fatto dei workshop hanno fatto degli incontri con i cittadini hanno raccontato cose insomma hanno fatto e soprattutto hanno fatto vedere che un'altra città è possibile hanno tolto le macchine hanno messo quella che viene chiamata pacciamatura è quella roba che sembra un po' segatura un po' l'ignetto che si usa anche nei vasi negli orti così no ma perché la pacciamatura fa una sorta di tappeto su cui uno può anche andare tra parentesi hanno iniziato che avevano fatto le grandi piogge quindi la pacciamatura ha anche aiutato a far sì che il terreno drenasse insomma veramente bello tutto ben messo con anche delle rastrelliere per biciclette per far vedere che una rastrelliera per biciclette può avere tempo dentro che ne so facciamo dieci no dieci no sei biciclette nello spazio di un'automobile e questo era molto simbolica ma anche molto utile cosa è successo che poi ad esempio poi sono andati via hanno anche piantato due piantine così ma piantine carine piccoline hanno piantato un baobab bene sta di fatto che finita questa cosa loro sono andati via hanno lasciato lì le cose così e ovviamente è arrivata anche qui ovviamente perché ci sta la regola è quella ma capite che c'è un problema chiediamo la partecipazione ai cittadini e poi chiediamo mille euro di multa due multe distinte alle associazioni che fanno qualcosa sul territorio io lo trovo aberrante assurdo è qualcosa davvero di assurdo e complimenti a questa giunta che non sta ancora dicendo niente cioè io vorrei capire com'è che vogliamo la partecipazione e poi non diciamo niente boh io questa cosa veramente non la capisco e si torna entro negli anni anche quando qualcun altro diceva che insomma qui una volta era tutta erba adesso è solo cemento e mentre sfuma Cindy Loper con Girls Just Wanna Have Two Fun ritorniamo qui in diretta sui 96.2 FM Crystal Radio Dub Plus in tutta Lombardia questa è Good Morning Milano buongiorno ancora a tutti siamo qui ancora un po' così per raccontarvi tutto quello che succede in questa città l'abbiamo letto dai giornali vi abbiamo dato un po' di notizie lette qua e là più insomma sia quelle buone che quelle un po' meno buone sapete che io cerco di edulcorarvi un po' la giornata togliendo quelle peggiori di notizie che cerchiamo di evitare però insomma ogni tanto devo leggervi anche quelle ma invece adesso è una bellissima iniziativa che vogliamo invece portare alla vostra attenzione e raccontarvi ci spostiamo così nella zona est più o meno centro est di Milano adesso poi chiediamo se è giusto perché noi dell'Ovest la vediamo così però bisogna capire infatti come funziona la risata che sentite è quella di Alexa Vitabile Leva buongiorno Alexa buongiorno a voi responsabile progetti ambienti e sostenibilità di Cascina con Cagna e project manager del progetto radici di comunità che ci viene a parlare di un vicolo vicolo Cuccagna sì sì sono molto felice oggi di avere l'opportunità di raccontarvi questa nuova esperienza che vede protagonista Cascina Cuccagna allora mi permetto di correggerti noi in realtà siamo in zona sud sud siamo a pochi passi da Porta Romana e ci affacciamo diciamo così verso il parco agricolo sud Cascina Cuccagna possiamo dire che è un primo esempio di rigenerazione urbana per la città di Milano è una vecchia Cascina che è stata riaperta al pubblico nel 2012 e che sta portando avanti questo processo di rigenerazione grazie anche alla riqualificazione del vicolo di via privata Cuccagna Cascina Cuccagna possiamo dirlo è stato anche forse uno dei primi esperimenti ben riusciti oltretutto che ha fatto anche un po' scuola su altri progetti di rigenerazione di altre Cascine se c'è stata una positiva ondata di rigenerazione di Cascine è anche grazie al progetto Cuccagna che nasce nel lontano 2012 oramai si si nasce addirittura più di diciamo così più di vent'anni fa con appunto l'assegnazione della Cascina all'associazione Consorzio Cantiere Cuccagna che è proprio nata per dare diciamo così possibilità e vita a questo progetto che è proprio un progetto di intervento classico dal basso quindi l'attivazione di cittadini che si sono uniti per dare vita ridare vita a questo luogo che è diventato poi un centro soprattutto di aggregazione culturale e di partecipazione e ora diciamo che la conquista del quartiere continua c'è anche un vicolo adesso cosa succede adesso abbiamo questo vicolo che stiamo rigenerando e riqualificando grazie all'attivazione di diverse iniziative non soltanto il progetto Radici Comunità che hai menzionato prima ma grazie innanzitutto a un patto di collaborazione che l'associazione Consorzio Cantiere Cuccagna ha firmato con il Municipio 4 che ha affidato a noi e alla mescolanza impresa sociale la cura di questo nuovo spazio con il coinvolgimento della cittadinanza quindi diciamo l'aspetto assolutamente fondamentale è l'aspetto partecipativo della comunità del territorio di prossimità di Cascina Cuccagna e non solo e tutto questo vedrà questo domenica giusto se non sbaglio un po' l'apice il momento lo start no giusto dimmi solo se io no e mi racconti dopo la canzone domenica si inizia domenica si prosegue oh bene mi piace mi piace così allora andiamo con la musica intanto e poi sentiamo bene cos'è questo proseguimento com'è cosa succederà domenica io ho letto un po' la lista di quello che c'erete in mente di fare fantastico cioè non si può non si può mancare domenica questo appuntamento Rita Franklin l'abbiamo abbiamo ufficialmente inaugurato alla presenza di varie figure istituzionali e non la domenica 26 maggio 26 maggio ok sì sì abbiamo avuto il presidente del municipio 4 abbiamo avuto l'assessore alla partecipazione Gaia Romani ma soprattutto abbiamo avuto i referenti delle tre fondazioni che hanno creduto in questo progetto radici di comunità e hanno deciso di finanziarlo la fondazione Alia Falc la fondazione BPM e la fondazione AM ci tengo a precisare che il progetto radici di comunità è un progetto di rigenerazione urbana ma è soprattutto un progetto di possiamo dire di rigenerazione anche a livello di persone perché prevede il coinvolgimento in questa questo processo di riqualificazione delle aree verdi del vicolo e delle aree dismesse di tre giovani tirocinati che sono diciamo così in una fase di reinserimento professionale e soprattutto anche sociale insomma Alexa della rigenerazione urbana alla rigenerazione umana bellissima questa cosa assolutamente sì complimenti complimenti noi appunto possiamo dire che è il progetto radici di comunità che è il cuore pulsante di questo processo di rigenerazione del vicolo e appunto l'inaugurazione è stato proprio un momento di condivisione di questi valori di sostenibilità non solo ambientale ma soprattutto sociale e valori di inclusione sono i valori che diciamo così in cui hanno creduto soprattutto anche le fondazioni che hanno scelto di finanziare questo progetto mi piace molto che questo inserimento del municipio cioè il fatto che comunque il municipio che proprio è la prossimità comunque segua bene questo vostro progetto mi piace davvero tanto insomma troppo spesso ci dimentichiamo dell'importanza appunto dei municipi no infatti ricordiamoci che Cascina Cuccagna è un bene del comune di Milano quindi in qualche modo comunque rappresenta anche la città di Milano e per noi che ce ne prendiamo cura è molto importante anche appunto la relazione e la sinergia con il municipio di appartenenza cosa succede domenica cosa succede esatto cosa succede che comunque questo patto di collaborazione comporta anche l'animazione di questa zona che noi a cui insomma che ci è stata affidata la cui cura ci è stata affidata e quindi con domenica prossima che è appunto la domenica 9 giugno abbiamo la domenica bestiale di Cascina Cuccagna che è questo evento culturale che ormai da più di un anno offriamo alla cittadinanza con un ricco palinzesto culturale per grandi e piccini noi amiamo dire da 0 a 99 dove offriamo per la maggior parte eventi a titolo gratuito e tantissime delle iniziative di domenica 9 giugno prenderanno parte anche nel nuovo vicolo rigenerato sicuramente quella più interessante più divertente che vede anche protagonisti proprio i ragazzi che sono coinvolti nello sviluppo del progetto di Radici di Comunità è questo swap plant party questo scambio di piante lo scambio delle piante che cos'è è interessantissimo che non sono gli alberi di Natale che non lo usate più che cos'è sono piante vere nel vasetto nella terra di varie dimensioni e possiamo decidere di di scambiare delle piante e scambiare quindi anche delle storie e delle delle esperienze se vogliamo e se siamo non è insomma se abbiamo voglia di cambiare possiamo appunto portare una pianta che magari ne abbiamo più di una in casa lasciarla lì qualcun altro se ne prenderà cura e e noi ne prendiamo una che magari secondo me ti arriverà una certa Elisa Galmarini che è la nostra producer che so che ha delle piante di pomodoro in casa che non sa più dove metterle e quindi si possono portare anche quelle molto volentieri perché noi in Cascina Cuccagna tra l'altro abbiamo anche l'orto appunto Elisa parlo con la mia producer due piantine di pomodoro e tuoi ci portiamo a casa magari un po' di fiori di zucca melanzane qualcosa del genere vediamo vediamo va bene dai facciamo così è molto interessante perché questa cosa mi dicevi aperta comunque a tutta la cittadinanza quindi mi immagino che veramente c'è la gente che magari sui suoi adesso poi gli orti in casa vanno anche oppure ho 4-5 fiori piantine più belle o dei gerani così io posso scambiarle con altre è lo scambio è proprio la cultura dello scambio del confronto che comunque insomma sono sono sentimenti che comunque muovono tutto il diciamo così lo spirito di Cascina Cuccagna chiaro allora prima di salutarti ci ascoltiamo ancora una canzone e poi mi racconti un po' invece quali saranno i next step i prossimi passi appunto di Vicolo Cuccagna ma anche a questo punto della Cascina che insomma sappiamo fare tantissime cose tutto l'anno oltre la Domenica Bestiale cioè veramente una Cascina Bestiale quindi ne fate veramente veramente tante andiamo con un po' di musica e poi ancora qui a parlare di Vicolo Cuccagna Nemo con The Code direttamente all'Eurovision Song Contest 2024 vincitore per la Svizzera lui broke the code diceva lui rompe il codice rompe un po' gli schemi beh sicuramente non so se avete rotte le regole parlo con la mia ospite ma sicuramente avete aiutato a riscriverle queste regole un po' le regole della partecipazione della città lo chiedo dall'ex evitabile leva la responsabile appunto del progetto ambiente e sostenibilità di Cascina Cuccagna insomma c'è poco a fare l'avete un po' aiutato a riscrivere queste regole no? sì indubbiamente ci siamo impegnati ecco non so se l'avete rotte ma sicuramente avete aiutato a riscrivere a pensare anche a quello che può essere una partecipazione un po' diversa da quella che magari si aveva idea vent'anni fa di partecipazione una partecipazione completamente nuova che fa scuola appunto nella città e siamo ben contenti di avere tante iniziative in città tra cui appunto quella che domenica vedrà il continuum di questa grande inaugurazione lunga diciamo che continuerà avete in vado mi sono letto bene 18 laboratori farete da qua fino a fine anno più o meno giusto? sì 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 faremo tantissimi laboratori aperti a tutti sia a bambini e ad adulti e la maggior parte saranno sicuramente ambientati e sviluppati nel nuovo veicolo rigenerato sono tutti laboratori a tema a tema verde e avranno saranno aperti al pubblico saranno aperti alla cittadinanza molti di questi saranno dei laboratori partecipativi avremo appunto anche la collaborazione di un un gruppo di giovani artisti che si chiama Atelier delle Verdure che ci sta aiutando proprio anche ad arredare questo nuovo spazio con delle delle nuove attrezzature dei nuovi servizi dei tavoli delle panche dei tavoli per giocare a scacchi e per noi è normale giusto per voi è normale che qualcuno si chiami Atelier delle Verdure giusto cioè per voi è una cosa ormai normale giusto no ok no volevo dirvi che per noi no però va bene nel senso sappiate interessantissimo è bellissimo cosa è Atelier delle Verdure adesso Elisa dobbiamo sentire quelle di Atelier delle Verdure mi piace come nome bene bene mi fa piacere e inoltre la rigenerazione proprio verde del del vicolo dà la possibilità di scoprire nuove piante perché comunque il vicolo è stato abbellito continuerà ad essere abbellito grazie anche proprio a una progettazione verde che che permetterà proprio anche ai cittadini di scoprire nuove piante e imparare a conoscerle i prossimi passi quindi quale staranno appunto da qui in avanti cosa si farà poi allora abbiamo un progetto ambizioso per far vivere questo spazio perché finora invece erano umili ma c'erano cose piccoline avete fatto finora allora il progetto il progetto prosegue probabilmente se se avremo anche tutte le come dire la partecipazione con tutta la scheramanzia del caso diciamo e probabilmente riusciremo addirittura a realizzare in questo spazio una zona di proiezione di film all'aperto per la cittadinanza è un progetto diciamo così che si sta sviluppando e al quale stiamo lavorando e al quale teniamo molto questo sarebbe proprio la restituzione più più completa e più diciamo così coinvolgente proprio per la per la cittadinanza comunque a parte questi eventi diciamo così sporadici e puntuali poi il vicolo è vivibile aperto tutti i giorni è uno spazio comune è uno spazio accessibile e è uno spazio di partecipazione e di condivisione sarà anche nelle prossime edizioni delle domeniche bestiale vi ricordo il nostro palinsesto ogni seconda domenica del mese tutti i mesi a parte l'interruzione del mese di agosto sarà appunto luogo di laboratori e occasioni di coinvolgimento per il pubblico vi ricordo domenica prossima non abbiamo solo lo scambio il baratto delle piante abbiamo tantissimi altri eventi abbiamo lo spottacolo di burattini abbiamo la musica per i bambini abbiamo dei laboratori di falegnameria e il laboratorio di creazione giocatto di legno ad esempio esatto perché noi abbiamo la falegnameria a cuccagna poi c'è la stand up la stand up comedy la sciva qui non voglio entrare non voglio sapere nemmeno io nemmeno io possiamo dire ma c'è la tavolata bestiale poi finale ho visto esatto poi dopo la stand up comedy c'è la tavolata bestiale presso un posto a Milano il bar ristorante ospitato all'interno di cascina cuccagna quindi c'è una varietà di proposte e di eventi che diciamo dovrebbero accontentare tutti ce n'è davvero davvero per tutti grazie mille Alex allora grazie vi aspettiamo seguiteci sulle nostre pagine rimanete informati aggiornati siete ovunque immagino tutti i social cercate cascina cuccagna e trovate tutto quanto va bene grazie mille Alexa buona giornata e porto i saluti a tutti quelli della cascina e a tutti quelli del vicolo anche adesso infatti infatti grazie mille ancora buona giornata buona giornata buona giornata a voi Antonello Venditti con Alta Marea e ho le 8 e 36 minuti questo è un po' il classicone di oggi insomma che immaginato avete cantato davvero in tanti adesso andiamo con la pubblicità non sono una signora Loredana no non io cioè Loredana Bertè lo canta abbastanza palese che non sia una signora però chissà potrebbe essere magari un giorno non ci penso ma comunque Loredana Bertè non sono una signora alle 8 e 42 minuti qui su Cristiano Radio ben ritrovati ben ritornati abbiamo parlato di Vicolo Cuccagna che vi ricordiamo vedrà un altro passo della sua realizzazione proprio questa domenica con una manifestazione in Cascina Cuccagna e nel Vicolo la Domenica Bestiale cercate trovate su Google tutte le informazioni cercate Cascina Cuccagna e trovate tutto quello che volete andiamo avanti invece a leggere un po' di notizie dai giornali è un'altra notizia di quelle che ti fanno girare le scatole perché Repubblica Milano Trenord richiesta di risarcimento da 10.000 euro al portavoce dei pendolari per diffamazione ha diffuso informazioni false il PD in questo caso reagisce e dice è intimidazione beh sembra un po' quella roba lì devo dire anche perché mi viene a dire tu Trenord con 10.000 euro non ci fai nulla nulla ma niente proprio non ti servono quei 10.000 euro non ti ha fatto un danno che vale 10.000 euro se ti avesse fatto il danno nel senso che se accettiamo nell'assurdo che una persona dica io quante volte ho detto ah Trenord i treni fanno schifo e arrivano sempre in ritardo è ovvio che non è così non è che tutti i treni Trenord arrivano in ritardo c'è una percentuale che arriva in ritardo una percentuale no il sentore di noi altri è che facciano tutti abbastanza schifo e non arrivano in orario ma questa è un'opinione non è neanche non è che lo dai per assodato e chi riceve l'informazione dall'altra parte non è che diceva vedi Ranfi ha detto che tutti i treni Trenord in ritardo tutti quanti no idem le dichiarazioni fatte dal portavoce dei pendolari possono anche essere fallaci ci sta può essere non entro nel merito di questa cosa qui ma tu azienda non è che dice allora adesso ti denuncio per diffamazione cioè veramente ma che figura ci fate ma che figura ci fate a minacciare perché questa è una minaccia come dice il PD un'intimidazione a minacciare i cittadini in questa maniera ma scusate semmai dimostrate che non è così fate visto che la forza comunicativa sicuramente di Trenord è 10 milioni di volte più potente della forza comunicativa che può avere i pendolari della Lecco Milano ok insieme ai comitati Lecco Milano Valtellina ok denunciavano il fatto che i nuovi treni Donizetti recentemente messi in servizio tra linea Milano Lecco erano già stati rimpiazzati negli orari di punta da vecchi treni in media distanza perché i primi si erano dimostrati insufficienti ok in virgolato anche noi abbiamo letto questa notizia comprono i treni nuovi e vengono messi l'affermazione sgradita Trenord che non solo la contesta non solo chiede agli autori di ritirarla ma avanza appunto una esosa richiesta di risarcimento paventando di agire per vie legali la lettera di Trenord inviata via Pecchi il 16 maggio riporta nell'oggetto intimazione contestuale richiesta di risarcimento dei danni per diffamazione questa roba qui tra prendisi poi uno può chiedere dei danni per diffamazione senza passare da un tribunale se non la sapevo se c'è qualche avvocato mi piacerebbe sentirlo perché può cioè dire ah mi è diffamato dammi 10 mila euro facciamo pari a patta non so si può fare non lo sapevo neanche comunque sta di fatto che leggetevelo l'articolo su Repubblica che sto citando è interessante per capire un po' com'è la situazione davvero ma che figura ci fa Trenord con una cosa del genere io voglio riparlare con l'ufficio comunicazione e marketing di Trenord con quelli da comunicazione ma questi ci andranno ma questi sono matti cioè è un boomerang pazzesco Trenord Trenord con veleno le notizie che arrivano dalla città sono sempre più assurde perché hanno sempre una seconda lettura che io do spesso e volentieri che mi dice ma dove cavolo ci vengono in mente di fare a volte ad esempio con Repubblica oggi ci pubblica questa notizia galleria Vittorio Emanuele arrivano le telecamere anti-vandali sulla cupola dell'ottagono e sui tetti dopo gli ultimi episodi scritte persino sul frontale in piazza Duomo il comune si affida agli occhi elettronici detta così dici vabbè ok non voglio che i graffitari che io a me piacciono tantissimo i graffiti ma fatti nei luoghi un po' più idonei rispetto magari alla frontale di Galleria Vittorio Emanuele diciamo non voglio che i graffitari non vadano su a fare i graffiti così ma in realtà ho scoperto ho scoperto basta leggere basta informarsi un attimino che c'è tutto un altro mondo del roof topping che è quello di queste persone quasi sempre ragazzi molto giovani che entrano di notte in luoghi ma in realtà anche di giorno ho visto perché poi ieri casualmente proprio ieri uno di questi ha incominciato a seguirmi un ragazzo che fa queste cose ha incominciato a seguirmi Michael Raimondo si chiama su Instagram lo dico perché appunto lui mi segue e posta delle foto stupende devo dire effettivamente bellissime fatte da dei con dei panorami pazzeschi è salito su un palazzo davanti al Duomo all'ultimo piano fuori sul terrazzo dove non si potrebbe accedere lui è riuscito a accedere è stata la Torre Velasca prima che finissero i lavori dal tetto la Torre Velasca davvero tanti ecco il problema è anche però fatto da ragazzi non mi viene da dire da come Michael Raimondo ma che vogliono un po' emulare quello che fa Michael Raimondo o meglio così lui dice perché ci sono varie situazioni in cui lui dice anche attenzione però le cose o le fate bene o non le fate perché in galleria sono venuti giù dei vetri ad esempio non della cupola ma della copertura del tetto in uno dei punti in cui viene anche in stazione centrale successo perché alcuni sono andati a camminarci sopra e gli hanno rotti e giustamente lui dice no ragazzi però se dovete fare dovete fare un po' in bene e fa un po' il paio questo con l'urbex che è un po' questa nuova moda dell'andare dentro a luoghi abbandonati qui non parliamo di luoghi abbandonati l'urbex si va dentro in luoghi abbandonati che però a volte magari sono pericolosi e quindi bisogna valutare la pericolosità dell'accesso a quei luoghi oltretutto c'è questa cosa del mettere sui social la propria avventura fatta dentro l'urbex oppure nella conquista appunto di un palazzo in teoria chiuso di un rooftop che non si potrebbe visitare e non è detto che lo so che il spirito di emulazione è quello e quindi è detto che poi qualcuno che magari non sia preparato come quella persona che ha postato il video vada a cercare di rifare questa avventura sta di fatto che veramente siamo arrivati a dover mettere delle telecamere sulla cupola della galleria esterne perché c'è gente che di notte ci va su e non solo la parola vandali secondo me sminuisce un po' il problema e sminuisce un po' la tematica che invece è molto molto più complessa secondo me dovuta sicuramente a questa voglia comunque di comparire sui social Michael mi spiace so che non ci questo tu dici che non è così ma non ci credo è quello è voglia di comparire 8 e 56 minuti giovedì 6 giugno siamo arrivati alla fine di questa puntata di Good Morning Milano diamo la linea adesso ad Ambrogio Curti che con senti questa ci racconterà e ci farà ascoltare della grandissima musica per poi dopo noi ritrovarci invece domani mattina sempre qui in diretta qua su Crystal Radio 96.2 FM da Blas in tutta la Lombardia noi siamo qua tutte le mattine lo sapete vi raccontiamo molto quello che succede in città leggiamo i giornali oggi vedremo tantissime notizie che cercheremo anche di andare di nuovo ad approfondire perché quella di Tre Nord mi fa impazzire quella della multa l'associazione che ha messo a posto la via poi non parliamo neanche quella lì proprio alto che cabasese domani mattina alle ore 7 se accendete la radio ci trovate qua sempre come sempre dal lunedì al venerdì questo è Good Morning Milano questa è la sveglia dei milanesi questa è Cristal Radio a domani buona giornata ciao a tutti ciao ciao